Ciao ragazzi e bentornati sul canale! Oggi abbiamo un doppio unboxing e ad aprirlo ci saremo io, Elisa, Ciao e Danny, Ciao! Oggi apriremo una LOL Surprise Dance 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 e una Barbie Fashionista numero 132 che è snodata ed è sulla sedia a rotelle guardate da dentro e questa qui sono tutti belli però noi non avevamo la sedia e abbiamo preso questa va bene, non perdiamo tempo e apriamoli bene, quale apriamo per prima? facciamo un barebacicicocco lo faccio io, va bene un barebacicicocco, trecicocco la LOL eccola qui, questa spostiamo la più in dietro bene, eccomi qui, adesso la apriamo la BOL è azzurra con... è nera abbiamo luogo allora, buttiamoci subito sulla checklist eccola qua allora, allora, sono tutte molto belle allora, mi piace questa, 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 questa mi piace, però ho già a Blair che è simile sì, vabbè, ora parte la checklist allora, buttiamo tutto vedo che bussine grandi allora, c'è questo che fa così insegna a ballare forse questo dice che la LOL ballerà in questo modo allora, la LOL dov'è? ah, la LOL è qui allora, apriamo prima... questo occhiali forse è molto probabile che è questa ma vabbè, dai ora apriamo questo ah, qua c'è la base apriamo qualcosa di più grande tipo questo eh, non so se c'è un'altra parte della base poi questo ah, qui c'è la luce e qui c'è la base per farla ballare eccola qui, molto bella allora, apriamo questo allora, qui c'è il biberon sì, è ufficiale, è questa ma dai, beh, non è male ecco il vestito ok, una canottiera e dei pantaloni molto corti poi qua ecco qua le scarpe oh, come sono carine sono più stivaletti guarda, una biglietta poi questa è vuota l'ultima bustina questa ha la gonna da mettere sopra perché lei ha le mutande sotto e sopra ha questa gonna aperta bene, tutte le bustine aperte ora è il momento apriamo la LOL ok ci sono i pelini oh, i guanti ed eccola ed eccola qui la nuova LOL super glamour elegante e fluo di sempre eccola qui bene, ora vestiamoli e mettiamo gli accessori ed ecco qui la nostra nuova LOL ragazzi consigliatemi nei commenti chi potrei diventare bene, adesso abbiamo aperto la LOL e ora ed ecco qui la fascinista 132 forza apriamola ed eccola fuori ora dobbiamo solo togliere questa scatola bene stacchiamo tutti i fili ed è libera bene dopo ore di attaccamento scotch è tutto ecco qui tre Barbie sul fede a rotelle eccola qua ecco qui la sedia a rotelle c'è questo che la fa sedere poi lei è tutta pieghevole braccia mani gambe vedi anche il busto vedete con la riga si piega anche il busto bene ragazzi il nostro unboxing finisce qui devo dire che non è andata per niente male questa Barbie e i vestiti bellissimi e questa sedia a rotelle va veramente bella già e poi guardate come fluo questa LOL poi non vedo l'ora di vederla ballare e qual è il suo cambio colori con la luce già e se butta l'acqua dalle orecchie e fa la pi piange cambia colori già voi suggeriteci nei commenti chi potrebbero diventare lasciate un like se questo episodio vi è piaciuto diteci nei commenti se preferite me o questa è ovvio che preferiscono te tu sei così fluo no 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 tu guarda che bella sedia a rotelle super comoda no tu no tu dai basta ragazzi lo deciderà il barbie club chi è la migliore beh il nostro video finisce qui vediamo nel prossimo video ciao ciao dun 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 mua ciao